Siamo in giro, guardiamo tantissime partite perché le partite sono tante, però grazie allo scouting abbiamo messo in piedi con la Lega TD e riusciamo a vedere tante partite, tanti giocatori, i giocatori bravi ce ne sono, ragazzi che hanno voglia di migliorarsi ce ne sono e il nostro compito è quello di trovarli e cercarli di mandare questi ragazzi in serie professionisti. A livello laziale, parlando della nostra regione, abbiamo visto diversi nomi, no? Sì, ma il comitato regionale qui nel Lazio lavora sempre bene, le squadre nel Lazio ci sono, lavorano bene, sono in tanti, c'è un bel bacino d'utenza e sicuramente andremo a trovare anche dei ragazzi qui nel Lazio perché, ripeto, ce ne sono tanti e tra l'altro ci sono alcuni veramente bravi. Lei immagino abbia visto partite un po' ovunque, in serie D, in livello come lo giudica generalmente? Ma io al di là di fare complimenti a tutti per l'organizzazione perché la serie D, nel senso i dilettanti, secondo me è rimasto solo il nome, sono società veramente organizzate come i professionisti, per cui questo va dato atto all'impegno dei presidenti, dei direttori, dei misteri che comunque provano a proporre un bel gioco, per cui, ripeto, le partite sono tante, andiamo in giro, il livello è buono, molto buono, secondo me tante squadre hanno capito che devono puntare sulla qualità, soprattutto sui giovani di qualità perché solo così poi a livello finanziario possono tenersi in piedi.